A Napoli nel mese di agosto sono tanti esercizi commerciali in attività, dai ristoranti ai bar fino all'abbigliamento ai negozietti di souvenir dedicati ai turisti in città, tanto per fare qualche esempio. Con i mutamenti delle economie, ricordo di una Napoli deserta ad agosto, con negozi chiusi, pochi servizi e senza traffico è sempre più remoto. Se come dichiarato da Confesercenti a Napoli molte attività rinunciano alle ferie a causa della crisi dei consumi, dall'altro lato c'è chi può permettersi anche per due settimane di chiudere la serranda e concedersi meritato riposo. Sì, chiuderò, io chiudo a Sfrazzi, ho chiuso una settimana ad aprile, sono andato un po' da mia figlia che vive all'estero, chiuderò la settimana di Ferragosto e credo, mi auguro che chiuderò la settimana di settembre e ritorno un po' da mia figlia. No, noi questo negozio rimane sempre aperto, però giriamo tra di noi, quindi abbiamo le settimane di ferie e giriamo tra di noi, però rimane sempre aperto, perché giustamente questa strada è molto turistica e c'è un bel passaggio di persone. Assolutamente no, sempre aperti, perché col turismo che c'è bisogna sfruttare questi momenti di grande affluenza del pubblico turistico, dunque saremo aperti sempre, tutto il mese di agosto. Noi resteremo aperti come tutti gli anni, abbiamo un sistema di rotazioni per quanto riguarda le ferie, quindi ci possiamo permettere di lasciare il negozio aperto. Mi dispiace per i turisti, ma io ho tanti collaboratori che hanno famiglia, hanno i bambini, io sono nonno e mi dedicano pochi spazi e riposo per tutti noi. Grazie a tutti.